Cosa erano quelle cose? Delle specie di IA da difesa avanzate. Forse collegate alle sentinelle? Difficile dirlo senza esaminarle. Vediamo dove ci ha portato quel sistema di trasporto. Mettimi nella console! Dov'è l'Infinity? Questo è il nucleo di Requiem, d'accordo. Ma l'Infinity non è qui. Quel satellite al centro amplifica i messaggi della nave come un ripetitore. Forse possiamo usarlo per rispondere. Forse. Quei raggi in uscita creano l'interferenza con cui abbiamo avuto a che fare. Dobbiamo liberarcene per contattare l'Infinity. Dov'è l'Infinity? Apro un passaggio verso il pilone del primo raggio. Prendimi e andiamo. Questo è il primo pilone? Negativo. Più vicino non potevamo andare. Spero non ti spiace camminare. Contatti! Eccoli, tornano! Vendono dalle pareti! Non erano le stesse cose di streghe adius. L'impronta cerebrale è simile all'IA della torre. Sono connessi. Attento! È proprio bello come il sole, non trovo? Da un rapido esame, questi esseri hanno una propensione mimetica. Degli altri. Rilevo un'attività fasica al limite del raggio dei sensori. Avremo compagnia. Degli altri. Degli altri. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Finora ho recuperato molte stringhe che identificano quelli grossi come cavalieri prometeici. Oltre a questo però non riesco ad andare. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. L'interferenza sta crescendo. Dobbiamo essere vicini al pilone. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E cosa è stato? Sono io. Il movimento attraverso quei portali fa aumentare il carico sul mio sistema. Pensi che starei bene? Tranquillo. Finora ho mantenuto il controllo o sbaglio? Quello è l'obiettivo. Quello è l'obiettivo, ma l'interferenza è sempre schermato. Dobbiamo capire come procedere. Dobbiamo capire come procedere. distruggi. Distruggi quel nucleo energetico. Distruggi quel nucleo energetico. Questa è l'obiettivo. Ottimo Chief, ancora uno Ottimo Chief, ancora uno Bene, niente più nuclei, vai in cima al pilone Ottimo Chief, ancora uno 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 Ha detto forward unto dawn. Avranno intercettato il segnale di soccorso. Il segnale è arrivato su Requiem con lui. Se provano a seguirlo... ...cadranno nel pozzo gravitazionale. Cercherò di avvisarli. Tu elimina quel raggio. Ecco i comandi del raggio. Funziona. Il segnale del ripetitore si sta ripulendo. Domando quota. Abbiamo un segnale CSP proveniente da un punto all'interno del pianeta. Non sono ancora al puzzo. Le interferenze sono ancora troppo forti. Sattiviamo l'altro raggio prima che facciano la nostra fine. Mi chiedevo perché l'Infinity non avesse ancora incontrato i Covenant. Che cosa fanno qui? Sono diretti anche loro al secondo pilone. Non può essere una coincidenza. Ai Prometeci non stanno simpatici neanche i Covenant. La rete è piena di rapporti relativi alla resistenza attorno al pilone. Delegati. Grazie a tutti. 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 No! Grazie a tutti. 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 Infinity. Grazie a tutti. Non aspettare a tutti. Così a tutti. Grazie a tutti. Il mio mondo. contro contro di me. ma... e a tutti. e a tutti. sono... questa... e... e... che è... il movimento... ha stabilizzato... e... 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 inutile... e... 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 traccia... e... e... e...